Doveva uscire un video dedicato a una delle storie a sommario sul topolino numero 3558, come al solito è in ritardo, ma alla fine non me la sono sentita. Come probabilmente avrete già scoperto dalle news di giornata, Alfredo Castelli, creatore di Martin Mister e di tanti altri fumetti tra cui anche un paio di sneiani, ci ha lasciato. Ho avuto il piacere e la fortuna di poterlo incontrare qualcosa come una decina di anni fa proprio al Look Comics & Games, rendendomi alla fine conto che effettivamente era proprio come traspariva dal buon vecchio zio Martin, un personaggio, una persona di grandissima intelligenza e ancora più grande cultura. Certo questo lo potranno confermare perfettamente tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo molto meglio di me, che l'avrò incontrato in un paio di occasioni in quel Look Comics di appunto più di dieci anni fa. L'unica cosa che mi sento arrivati a questo punto di dirvi è andare in descrizione dove vi lascio un link post, dove poi potrete successivamente andare a recuperare altri link relativi proprio ad Alfredo Castelli. E qualunque cosa voi pensiate di lui, beh, sinceramente non posso che dire che era comunque un punto di riferimento per chiunque aveva intenzione di utilizzare le parole per comunicare, che sia una comunicazione tramite i fumetti, sui fumetti o su qualunque altro argomento. Saluti a tutti e ci vediamo al prossimo video.